tutti mi dissero perché in quel momento mi bombardavano di critiche tu dovresti inginocchiarti al cospetto di tutte quelle persone che ti stanno criticando e invece tu gli rispondi e io risposi, mi inginocchio solo per cantare le mie canzoni in effetti io mi sono inginocchiato quando è cominciata la parte che io stesso ho scritto che è la parte red, quella che dà più velocità al brano però non è solo per quello, io mi inginocchio perché Patti Bravo è giusto che io mi inginocchi davanti a lei, è giusto perché io la devo ringraziare, la devo omaggiare e la devo venerare perché se sto su questo palco è soprattutto grazie a lei